è buono vero giù giù bravo ecco cucchiaino alla volta eccolo che arriva eccolo fame ciao ciao che cos'è carne carne e da dove viene aspetta fammi vedere sono stato dal dottore ha detto che il bambino non sta crescendo perché l'hai fatto nostro figlio nel settimo percentile 93 bambini su 100 crescono più di quanto cresce lui non deve mangiare niente che viene dalla carne non voglio restare a guardare mentre il nostro figlio muore di fame va bene dammi non 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 non